Andiamo a vedere. Zanarca, abbastanza prudente anche il 6 di Zwicky Fox. Nel lancio emerge nettamente Zemiria, che precede Zantafé SM, al quest'erno c'è la favorita Zenith Power, poi lungo la corda, Zadria del Circeo con vicino Zirudela, ancora Zanarca. Gruppo compatto con Zenith Power che ora avanza decisa, va a chiedere strada a Zemiria dopo un quarto ritmo molto blando in 31 e 2. Sfila al comando Zenith Power senza spesa alcuna e lascia scoperta all'esterno Zirudela che si trascina, zona Jet, al cui interno c'è sempre Zantafé SM, poi ancora Zadria del Circeo, Zanarca e in coda Zwicky Fox. Andatura modesta, quella imposta da Zenith Power, al salchi della quale avanza ora Zirudela in corda a Zemiria. Il chilometro di Zenith Power impegnata ora da Zirudela va via in 1'17'1. Accelerazione piuttosto decisa sulla retta di fronte con Zirudela che insiste all'attacco di Zenith Power. Ancora un parziale in 13'7 per raggiungere 1'2 e si arrende di galoppo. Zenith Power passa Zirudela in seguita da Zemiria, poi Zonaget dal gruppo avanza Zanarca. Zirudela in vantaggio su Zemiria, Zonaget, poi Zanarca. Zirudela che allunga e si mantiene in evidenza su Zemiria e Zonaget. Zirudela che con percorso tutto all'esterno ha demolito Zenith Power, ne ha sfruttato la rottura e ha concluso da netta vincitrice. Seconda a seguire per l'allieva di Andrea Baveresi, dietro la quale rimane seconda Zemiria davanti a Zonaget. 4-5-9. L'arrivo ufficioso della terza di Capannelle. 2-1-6 sul mio cronometro, significa media di 1-16, ma è stato a ritmo decisamente diverso il mezzo miglio finale. Si è andati sul piede dell'1-20 all'inizio e poi si è andati molto ma molto più forte quando Zirudela ha messo alle strette Zenith Power, è passata e ha vinto netta su Zemiria e Zonaget. Grazie. 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 Grazie.